Rappresentano il culmine di uno sforzo che abbiamo portato avanti da vent'anni. Ricostruire forse anche in modo più forte una identità del settore tecnico maschile è sempre stato uno degli obiettivi che abbiamo sempre cercato in questi anni. Adesso siamo premiati anche forse in modo eccessivo. Stavamo esagerando, stavamo rischiando di portare addirittura due giocatori tra l'altro uno giovanissimo all'Nita TP Final, il primo anno in cui si giocano in Italia. È stato un anno straordinario, abbiamo avuto veramente successi impensabili a incominciare dalla finale di Wimbledon di Matteo Berrettini ed è molto positivo perché il tennis è uno sport in piena salute tra l'altro che ha un coefficiente di sicurezza contro il Covid assolutamente imbattibile e quindi credo che queste possano essere delle solide basi per continuare a crescere in futuro. Grazie a tutti.